Io ho un libro. È un libro per bambini in realtà. È il mio preferito da quando ero piccola. Si chiama Il coniglietto di velluto. È la storia di questo coniglietto che è amato al punto che diventa vero. Ma col tempo succede che nessuno si prende più cura della sua pelliccia. Lui diventa triste, si sforma. Non è più lo stesso, insomma. È convinto che non potrà mai più essere felice. Ma non lo sa che nonostante tutto il male che ha passato, potrà essere ancora pieno di gioia per chi è vivo. Io... Io spero che a me succeda lo stesso. Essere più amata al punto da sentirmi vera.